signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai seconda puntata di quest'estate del modellismo col master kai la scorsa settimana abbiamo visto come creare caselle di dimensioni diverse mantenendo però sempre la modularità con le caselle che avevamo già creato il fatto però che le caselle siano tutte modulari tra i loro e abbiano tutti gli stessi identichi attacchi non vuol dire che la decorazione superficiale delle caselle debba per forza essere uguale in tutti i casi quindi se la scorsa settimana ci siamo occupati di come fare le caselle irregolari questa settimana vedremo come decorare le caselle in maniera irregolare cominciamo a creare la base procedendo esattamente come al solito in questo caso ho deciso di creare una base di quattro caselle per quattro invece della classica due per due in realtà non cambia nulla il processo poi di decorazione della superficie sarà esattamente lo stesso ma più spazio avremo a disposizione per creare la nostra decorazione meglio la decorazione risulterà evidente in più queste sono le griglie che uso per creare il centro delle stanze che è il posto migliore dove inserire una decorazione questa parte non è nulla di particolare per crearla procederemo esattamente come abbiamo visto nel video scorso se vi siete persi il video vi lascio il link qua in alto una volta finita di costruire la parte inferiore della base mentre la colla si sta asciugando possiamo procedere con andare a creare la parte superiore per aiutarci a mantenere comunque una griglia regolare di caselle che serviranno per poter calcolare i movimenti delle miniature in questo caso è meglio disegnare direttamente la griglia sopra la superficie usando una delle caselle regolari come riferimento ho tracciato dove dovranno rimanere i bordi delle varie celle si poteva fare con precisione superiore utilizzando un righello ma in questo caso la precisione non è così importante e anzi dato che poi saranno le mattonelle stesse ad avere delle forme regolari essere particolarmente precisi in questa fase è semplicemente uno spreco di tempo questa griglia servirà soltanto a avere un riferimento a occhio su dove le varie mattonelle dovranno poi essere appiccicate quindi più velocemente la disegnate meglio è qua ad esempio per fare più velocemente invece di utilizzare righello e squadretta ho preso direttamente la superficie di un'altra base e ho usato il bordo dritto per tracciare la griglia regolare cominciamo a lavorare sulla nostra decorazione ora potenzialmente quello che potete fare sopra la casella dipende semplicemente dalla vostra fantasia della vostra necessità cercate di non fare nulla di estremamente specifico a meno che non ne abbiate veramente bisogno perché se più la casella è specifica meno possibilità avrete di riutilizzarla quindi se fate qualcosa che può essere applicato soltanto a una stanza all'interno del vostro intero gioco avrete fondamentalmente creato una casella che una volta utilizzata dovrà essere buttata per fare qualcosa di utile ma mantenendoci semplicemente sul generico io qua ho deciso di utilizzare semplicemente una decorazione a cerchio per mantenere le misure precise velocemente prima ho tracciato il cerchio usando la base come riferimento poi ho preso un altro foglio di carta più sottile da cui si ricavano le mattonelle vere e proprie e ho semplicemente riportato le misure ovviamente due cerchi uno interno uno esterno che saranno poi i bordi della nostra decorazione questo cerchio potrebbe rappresentare qualunque cosa da una semplice decorazione sul pavimento a il cerchio di evocazione dei demoni in una quest fantasy potrebbe essere la piattaforma del teletrasporto in una quest fantascientifica un disegno relativamente regolare secondo me la cosa migliore da fare perché permette di dare un carattere unico alla casella senza però che questa come dicevo diventi una casella talmente specifica da non poter essere riutilizzata una volta abbiamo disegnato il nostro cerchio sul foglio ritagliamolo cercate di essere precisi perché ritagliare un cerchio con delle forbici dritte non è così facile quindi qua dovete impegnarvi c'è un attimo e qua effettivamente metterci un minimo di precisione in più può tornare utile adesso che abbiamo la nostra figura di base andiamo ad adattarla alle caselle che abbiamo tracciato sopra la superficie della griglia per prima cosa in questo caso io l'ho tagliato a metà perché sicuramente ci sarà una metà da tagliare poi applicandolo sopra la griglia a questo punto sapremo esattamente dove saranno i vari bordi delle mattonelle e potremo fare dei tagli più precisi per prima cosa segnare appunto dove dovrebbero finire i bordi sopra il cerchio stesso immagino che alcuni di voi a questo punto si stiano chiedendo ma se poi dobbiamo ritagliare il cerchio a pezzettini perché stare a disegnarlo direttamente circolare sul foglio potevamo prendere semplicemente qualunque pezzo di carta e da lì ritagliare la forma sì potenzialmente sì il fatto è che a occhio se una forma è circolare o non lo è è molto evidente quindi cercare di prendere dei pezzi di carta a caso e poi dare loro una forma che cerchi che sembri un cerchio regolare è molto più difficile e richiederebbe molto più lavoro che semplicemente disegnare un cerchio e poi tagliarlo a pezzi ovviamente qua dipende dal disegno che voi volete realizzare se deve essere qualcosa come ad esempio un mosaico per terra che rappresenti una figura questo problema potreste non porvelo neanche e semplicemente appiccicare vari pezzettini uno vicino all'altro cercate sempre di capire qual è il modo più efficiente e veloce per fare quello che voi volete fare questi video sono semplicemente un esempio di quello che poteste voler fare una volta che tutti i pezzi del cerchio sono stati ritagliati per stare all'interno nelle caselle con la vinilica e con un minimo di pazienza andremo ad appiccicarli per andare a formare il disegno vero e proprio che dovrà risultare sulla casella fate attenzione di fare in modo che la colla vada sui bordi dei pezzi per evitare che si sollevino o che si imbarchino una volta che metterete la vernice una volta che avete posizionato il pezzo sopra la colla muovetelo un minimo e magari passate prima i bordi sopra la goccia di colla per essere sicuri che ci sia una corretta adesione adesso che il disegno è stato tracciato prendete dalla pila di mattonelle regolari che avete realizzato una mattonella per volta e se mi dispiace questa sarà la parte lunga e segnatevi la parte di troppo che dovrà essere eliminata a quel punto ritagliate la parte in eccesso e poi posizionate la mattonella dove dovrebbe risultare io per questo esempio ho usato due tipi di carta diversi in modo che anche senza la vernice sia evidente dove è un tipo di pezzo e dove è un tipo di altro ovviamente per voi no anche perché poi una volta e tutto questo sarà dipinto la differenza tra un tipo di carta e un altro non sarà poi così evidente cercate di fare in modo comunque che tutta la carta che usate abbia grosso modo lo stesso spessore per evitare di fare mattonelle su cui poi le basi delle miniature traballino una volta che tutta l'immagine sia stata realizzata mettetela ad asciugare sotto un peso in modo che si eviti qualsiasi imbarcatura fare decorazioni sul terreno fare disegni però non è l'unico modo per usare questa tecnica possiamo anche utilizzarla per differenziare un tipo di terreno da un altro in questo caso potremo usare questa tecnica per creare delle caselle di terreno accidentato posto in cui il pavimento sia rotto e quindi sono più difficili da superare disegnare come sempre prima una griglia di dove dovrebbero essere posizionate le celle per aiutarci qua sto usando un pezzo più piccolo quindi non è indispensabile però diciamo che aiuta poi prendiamo le mattonelle dal barattolo delle mattonelle realizzate e vediamo di creare un effetto di pavimento rotto sopra la casella stessa la cosa migliore da fare è tracciare per prima cosa il disegno a matita ricordando se potete lasciare un po più di spazio tra un pezzo e l'altro non basta tagliare la casella perché poi quando la andrete a incollare non ci sarebbe abbastanza spazio tra un pezzo e l'altro quindi dovete realizzare la sagoma e poi tagliare qualche millimetro di carta in più in modo che la fessura tra un pezzo e l'altro sia poi evidente una volta che andrete a incollarle questo non vi nascondo è un processo lungo anche perché deve essere fatto su ogni singola casella singolarmente per cui realizzare anche solo un gruppo di 45 caselle potrebbe richiedervi diverse ore se non siete abbastanza pratici io adesso in questo filmato ve ne faccio vedere una dall'inizio alla fine che mi ha richiesto circa un quarto d'ora di lavoro ma in realtà il grosso del lavoro l'ho fatto la sera mentre guardavo la televisione fondamentalmente per un paio di sere mi sono messo e ho ritagliato casella per casella ho appiccicato casella per casella e ho creato un intero lotto di celle di terreno accidentato fate attenzione sempre a rimuovere la colla da una fessura e l'altra perché se asciugando si viene a formare uno spessore potrebbe non vedersi più la differenza di altezza tra un pezzo di terreno spaccato e l'altro sicuramente creare caselle di questo tipo è più lungo ma dovendo rappresentare terreni particolari o comunque terreni decorati in realtà non ve ne serviranno così tante anche perché la maggior parte del terreno dovrebbe essere sgombro almeno normalmente è così quindi una volta che avete realizzato abbastanza caselle di quelle regolari per avere sufficientemente terreno di gioco potete mettervi a realizzare queste con più calma in realtà nulla vi vieta di usarle anche come caselle normali semplicemente con una texture molto più complessa del terreno per motivi estetici in realtà non è che sia molto più difficile realizzare quelle che realizzare delle caselle con le mattone le piatte il tempo però è il vostro quindi decidete voi come utilizzarlo più tempo perdete a costruire la griglia meno tempo avete per costruire le quest una volta creata tutta la struttura delle caselle spaccate ho anche aggiunto dei rettangoli a ulteriore rilievo che serviranno poi una volta dipinti a dare ulteriore carattere alle caselle non è un passaggio indispensabile questo l'ho fatto puramente per motivi decorativi se volete fare qualcosa del genere fate attenzione utilizzate del cartoncino molto sottile perché se andate a creare i dislivelli di nuovo le basi e le miniature potrebbero ballare e le miniature potrebbero cadere rendendo inutile avere una cella regolare e questo è come rimane le celle finite ovviamente non necessariamente ogni singola casella deve essere spaccata io qua ho cercato di realizzarne abbastanza per creare una stanza intera anche se difficilmente verranno tutte utilizzate assieme in questo modo però è stato un mio modo per creare una stima e come vedete tutte le caselle sono simili tra di loro e quindi vanno a creare una decorazione coerente una con l'altra ovviamente dato che la modularità è stata mantenuta all'interno di questo blocco di celle è possibile per esempio piazzare la cella più grossa che abbiamo realizzato prima o possono poi essere utilizzate singolarmente in altri ambienti del dungeon adesso che sono finite è arrivato il momento di pitturarle e possiamo usare la pittura stessa per rendere ancora più evidente che quelle sono caselle particolari come visto nello scorso video la base è stata data a bomboletta prima un fondo di nero e poi un due passate di grigio una più lontana e una più vicina per fare un effetto aerografo nulla di particolare la stessa cosa l'abbiamo visto precedentemente e sempre come abbiamo visto negli altri video le parti rialzate che dovrebbero essere i muri le ho dipinte proprio di bianco ghiaccio per creare un contrasto e rendere immediatamente evidente dove sono i muri qua vi consiglio di dare due passate la prima con un colore più coprente io ho usato del rosa carne e poi una volta che il rosa carne si è asciugato dare una seconda mano o un altro paio di mani di bianco ghiaccio in modo che il colore non non si inscurisca per via del fondo scuro non è un processo così lungo io in mezz'ora probabilmente ho finito di dipingere tutto in questo caso però non mi sono limitato a dipingere i muri ma anche quei pezzi regolari a rilievo che vi ho detto appiccicato prima per motivi decorativi anche a questi prima ho dato una base di color carne in modo che il nero sotto non disturbasse poi i colori e poi li ho dipinti con una mescolanza prima di un giallo ocra anche questo abbastanza coprente poi mescolando il giallo ocra con il bianco ho creato un tono un attimo più chiaro e ho dipinto il bordo per per fare più contrasto potrebbero rappresentare sia delle mattonelle di un altro colore sia magari dei fogli di carta buttati per terra in realtà il motivo per cui li ho messi è sia decorativo ma sia per rendere più evidente che quelle caselle sono diverse dato che una volta dipinte assumeranno tutto lo stesso colore delle altre celle accorgersi magari che quella casella ha le mattonelle spaccate e un'altra no potrebbe non essere così evidente se la griglia viene vista da lontano cioè dai giocatori magari seduti all'altra parte del tavolo che devono sporgersi per vederla in questo modo tutte le caselle che hanno il terreno accidentato hanno un quadratino giallo sopra che le rende immediatamente riconoscibili dalle altre attira l'attenzione e quindi un giocatore che si avvicini per vedere che cos'è quel quadratino giallo vedrà poi che le caselle di quella sessione sono spaccate e capirà che quello è terreno accidentato anche senza che venga detto ogni volta questa casella accidentata questa no questa sì questa no e questo è l'effetto finale le caselle sono tutte coerenti tra loro sono coerenti con le altre che abbiamo fatto e hanno anche questo punto di luce in più che le rende un attimo più interessanti anche la casella decorata con il cerchio è stata poi dipinta con colori diversi in questo caso il cerchio semplicemente di un colore bronzo per renderlo evidente rispetto alle celle che ha intorno qui potete letteralmente sbizzarrirvi a fare le forme più strane o a fare quelle che risultano più utili per la vostra quest il boss della vostra campagna ha un suo sigillo personale magari preparate una casella di terreno con quel sigillo che sarà il posto dove sarà il boss durante lo scontro finale o magari la vostra campagna potrebbe avere degli artefatti delle rune qualcosa di particolare per cui varrebbe la pena realizzare delle caselle su misura qua il limite è solo il vostro tempo e la vostra inventiva diciamo comunque per questo video è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video